Come ogni anno l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concessione della Beata Vergine Maria, l'Azione Cattolica Italiana festeggia la festa dell'adesione all'Associazione come segno del rinnovato Sì alla Chiesa, sull'esempio del Sì di Maria. L'Azione Cattolica della Diocesi di Assisino, Cera Umbra, Gualdo Tadino, ha preparato e diffuso a tutti i parroci responsabili della Catechesi Parrocchiale e sui social un piccolo video promozionale in cui trovare i verbi che orientano il cammino degli aderenti all'Azione Cattolica, alla sequela di Cristo, come laici, discepoli, missionari. Ripartire per camminare insieme, prendersi cura, comunicare, promuovere, sostenere, scegliere. Il video diffuso contiene inoltre una breve descrizione dell'Azione Cattolica Diocesana realizzata dagli stessi aderenti, educatori, catechisti o responsabili dei vari settori. Mai come in questo periodo, in questo momento storico, siamo chiamati ad essere cristiani, laici, che sono insieme anche se ancora fragili e disorientati, ma pronti a ripartire, a salpare, a navigare insieme, a vele spiegate. Ogni associazione parrocchiale ha celebrato la festa in semplicità, ogni bambino, ragazzo, giovane, adulto, ogni famiglia, ha rinnovato il proprio impegno partecipando alla messa domenicale con la benedizione delle tessere da parte dei parroci, simbolo materiale dell'adesione. Grazie a tutti.